Dire che va tutto bene e nel futuro non c'è bisogno di fare investimenti mi sembra troppo poco. Senza mezzi termine Luciano Ralli, capogruppo PD in consiglio comunale e soprattutto medico a sollevare il tema della sanità retina, una sanità sulla quale è il caso di interrogarsi. Tutti potete vedere l'incremento dei suicidi o dei tentati suicidi, l'aumento incredibile delle persone coinvolte nella dipendenza sia da sostanze che la dipendenza da gioco. L'occasione è la relazione di Enrico Desideri, direttore generale dell'ASL Toscana Sud-Est all'iniziativa Tessere i territori. La campagna di ascolto così viene definita dalla direzione aziendale propedeutica alla stesura del piano integrato di salute. Dopo l'incontro a Rettino, l'ultimo in calendario a cui Ralli ha preso parte come consigliere comunale, quest'ultimo solleva temi importanti come le liste di attesa e pronto soccorso intasati. Io non ci sto più a sottacere dei dati ormai consolidati, nel senso che il numero degli accessi al pronto soccorso ormai raggiunge 160.000 in continua crescita. Il problema delle liste di attesa sappiamo che è un problema che non c'è solo a Rezzo, ma in alcuni settori sono veramente imbarazzanti. Io credo che i cittadini che hanno già pagato le tasse nel momento in cui vanno a chiedere una prestazione, non devono essere obbligati alla libera professione o a strutture private o convenzionate, ma la devono fare qualora vogliono fare per libera scelta, che è assolutamente legittima, ma non deve essere obbligata. Ed inoltre, infine, se noi pensiamo che il nostro ospedale San Donato, che al di là della riorganizzazione della rete dell'ospedale, rimane un perno essenziale nella rete dell'ospedale della nostra provincia, è una parte costruita nel 1978. Una parte è una parte da ristrutturare. Io credo la regione, come sta facendo in altre zone della Toscana, ha i soldi per ristrutturare gli ospedali o farli nuovi. Noi ci basta ristrutturare una parte. Mi sembra che l'impostazione data dal direttore generale della situazione attuale, di quella che la sanità sarà nel nostro territorio, sia un'impostazione un po' datata. Quindi il tema è che bisogna inserire in alcuni settori dei nuovi risorsi.